La vera potenza della linea di comando di Linux è data dalla redirezione di input e output ma soprattutto dalle pipe. In questo video vediamo cosa significa tutto ciò ed iniziamo ad apprezzare la potenza di questi concetti con qualche esempio. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Prima di passare alla pratica facciamo un po' di filosofia. Se ci pensi bene, qualsiasi programma per computer non è nient'altro che un qualcosa che prende degli input, esegue delle operazioni con questi input e genera un output col risultato di queste operazioni. Linux mette a disposizione dei programmi un canale di input chiamato standard input che solitamente corrisponde ai tasti digitati sulla tastiera e due canali di output chiamati standard output per l'output normale del programma e standard error per i messaggi di errore prodotti dal programma. Ed entrambi questi canali di output normalmente corrispondono al testo che vedi nel terminale. Ma ora viene il bello. Standard input, standard output e standard error possono essere reindirizzati su file. Quindi se c'è un programma che si aspetta degli input da standard input, tu gli puoi passare un file al posto di dargli l'input da tastiera. Oppure puoi salvare su file l'output di un programma anziché visualizzarlo sul terminale. Ma la cosa ancora più bella è il concetto di pipe. Cioè puoi prendere l'output di un programma e darlo in pasto come input ad un altro programma. Ed una volta che capisci quanto è potente questo concetto, sarai mind blown come dicono gli inglesi. Questa potenza è data dal fatto che i programmi in linea di comando per Linux seguono la filosofia Unix, che si può riassumere in questi due punti. Ogni comando fa una sola cosa e la fa bene. E ogni comando è pensato per essere usato all'interno delle pipe. Quindi si aspetta input da standard input e non genera output inutilmente se non lo stretto necessario. Veniamo ora alla pratica. Per reindirizzare lo standard output di un comando su file uso il simbolo maggiore. Per esempio, se voglio scrivere su file l'output del comando ls, scriverò ls maggiore seguito dal nome del file, per esempio file1.txt. Nota come questa volta non vedo sul mio terminale l'elenco dei file. Se vado a visualizzare il file appena creato, ecco che questo contiene l'output di ls. Bene, ora sempre sul file1.txt voglio scrivere ciao. Quindi questa volta uso il comando ecco e reindirizzo sempre usando il carattere maggiore seguito dal nome del file. Andiamo a vedere cosa contiene questo file. Hmm, effettivamente contiene ciao, ma ho perso tutto il contenuto precedente. Questo ci insegna a fare molta attenzione quando reindirizziamo l'output su file, perché il contenuto precedente del file viene perso senza che ci venna chiesta nessuna conferma. Quindi facciamo attenzione quantomeno che il nome del file che vogliamo scrivere sia effettivamente quello che vogliamo. Esiste un altro reindirizzamento meno distruttivo, che invece che rimpiazzare il contenuto del file con l'output del comando, appende l'output del comando in fondo al file. E questo lo tieni usando maggiore maggiore. In questo modo. Se io voglio aggiungere una seconda linea al mio file1.txt, scriverò ecco, seconda linea, maggiore maggiore e poi il nome del file. Vedi che ora il contenuto precedente del file è stato mantenuto ed è stato aggiunto in coda al file l'output del comando ecco. Tutto questo per quanto riguarda la reindirizzazione dello standard output. E per lo standard error? Per esempio, se do il comando ls non esiste, vedi che mi dà un messaggio d'errore. Proviamo a reindirizzare l'output ripetendo il comando, dandogli maggiore e poi il nome del file. Nota come l'errore è ancora apparso sul terminale. Cosa contiene il file file1.txt? Niente, perché non c'era niente nello standard output. Quindi, per reindirizzare lo standard error, uso i simboli 2 maggiore e 2 maggiore maggiore al posto di maggiore e maggiore maggiore. In questo modo. ls non esiste, 2 maggiore e poi il nome del file. Vedi che ora su terminale non è apparso niente e se vado a vedere il contenuto del mio file, vedi che finalmente contiene lo standard error del comando. Può capitare che un comando produca sia standard output che standard error. Per esempio, se scrivo ls non esiste, file1.txt, ho nello standard error l'errore riguardo al file che non esiste e nello standard output la stringa file1.txt. Come faccio a reindirizzare sia standard output che standard error sullo stesso file? Beh, prima di tutto reindirizzo lo standard output su file con il simbolo maggiore seguito dal nome del file. Poi scrivo 2 maggiore ampersand 1, che significa di reindirizzare lo standard error nello standard output. Visto che avevamo reindirizzato lo standard output su file, di fatto lo standard error viene reindirizzato anch'esso sullo stesso file dello standard output. E infatti, se andiamo a vedere il contenuto del nostro file, vediamo sia l'errore che la stringa file1.txt. A volte invece potresti voler eseguire un comando e sopprimere i messaggi d'errore. Per fare ciò, basta reindirizzare lo standard error in un file speciale chiamato dev null. Vedi che non c'è nessun messaggio di errore, ed il file contiene solo lo standard output del comando ls. Il file speciale dev null è fornito dal kernel di Linux ed ha la caratteristica di scartare tutto ciò che gli scrivi dentro, e serve appunto a sopprimere l'output oppure gli errori dei programmi. Oltre alla redirezione degli output, esiste anche la redirezione dello standard input, che, giusto per completezza, ti dico che si fa col simbolo minore. Ma nella mia esperienza non mi sono mai trovato ad utilizzare. Perché se voglio dare il contenuto di un file in passo ad un programma, posso sempre usare il comando cut per leggere un file, mostrare nel contenuto sul standard output, e poi fare una pipe dell'output di cut con un altro programma. Ecco, parliamo proprio di pipe. Torniamo al primo video di questa serie, dove dicevo che il comando ls-help genera troppo output per essere visto in una sola schermata. Abbiamo poi anche visto che il comando less ci permette di visualizzare un file e poter usare le frecce o i tasti page up e page down per scorrere il testo avanti e indietro. La cosa bella di less è che, oltre che funzionare su file, funziona anche su standard input. Quindi, se io do il comando precedente, poi uso il carattere di pipe, che sarebbe la barra verticale, e poi do il comando less, ho detto, prendi lo standard output del comando ls-help e usalo come standard input del comando less. E vedi che ora posso scorrere il testo, andare avanti indietro a mio piacimento. Bene, abbiamo visto come ridirezionare gli output su file ed abbiamo visto le pipe per passare lo standard output di un comando allo standard input di un altro comando. E se io volessi avere lo standard output di un comando sia su file che come standard output per poterlo visualizzare oppure dare in passo ad un altro comando? Per fare ciò esiste il comando t che funziona così. Scrivi il tuo bel comando di cui ti serve lo standard output. Poi fai una pipe, comando t, seguito dal nome del file. Vedi che adesso sul terminale hai l'output del comando ls-help. Se vai a vedere il file file1.txt, vedi che anche lui ha lo stesso contenuto. La potenza delle pipe è data dal fatto che non esiste un limite, o se esiste è talmente alto da poter essere considerato illimitato. Dicevo, non esiste un limite al numero di pipe che tu puoi fare nella stessa linea. Quindi posso avere un primo comando, pipe, secondo comando, pipe, terzo comando, pipe, quarto comando e così via. Alla fine di tutta questa catena di pipe, volendo, posso anche reindirizzare l'output finale su file. Questo ci permette di risolvere in maniera semplice problemi all'apparenza complicatissimi. In un prossimo video andremo a vedere le basi dei comandi sed, grep e avk che ci permettono di fare cose davvero interessanti. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odissi. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Seguono la filosofia Unix, che si può riassimare... Sì, ciao!